Grande successo per il primo dei due appuntamenti delle Fonti Awards, tenutosi lunedì 13 novembre 2017 nella prestigiosa location di Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, con il patrocinio della Commissione Europea. L'evento ha registrato il sold out con oltre 50 studi legali e 30 tra imprese, compagnie assicurative e società finanziarie, presenti alla manifestazione di riconoscimento delle eccellenze italiane per antonomasia. L'eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, gestione di immobili, il premio viene assegnato all'azienda Dove Vivo, per essere un'eccellenza italiana sin dal 2007 nel settore della gestione degli immobili, per essere sempre al servizio dei proprietari e dei locatari, per il format innovativo e per supportare progetti sostenibili e green. Ed eccoli che arrivano, eccellenza dell'anno, innovazione e leadership, gestione di immobili, premio che viene assegnato a Dove Vivo. complimenti, buonasera, 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 alle, complimenti, bravissimi, ecco qua, un bel applauso, grazie. Dove Vivo ha vinto il premio Le Fonti come eccellenza dell'anno nel settore della gestione di immobili. Come può commentare questa vittoria? È un bellissimo riconoscimento per il nostro progetto, per me è William Maggio, con cui ho fondato questa società dieci anni fa, per lo straordinario team Dove Vivo che ogni giorno sviluppa questo progetto, questa società con grandissima determinazione. È il segno che la società ha saputo intercettare e sviluppare, è un'esigenza del mercato, per cui dei nostri clienti di avere un prodotto di alto standing, di grande qualità, intercettando quello che loro fa bisogno di una soluzione più dinamica, più flessibile, con un concetto di condivisione molto più ampio e allo stesso tempo anche quella delle proprietà che faticano in questo ambiente così dinamico a intercettare un conduttore ideale e stabile per le loro unità immobiliari. La vostra azienda non è un'agenzia immobiliare, bensì una società di gestione di immobili. Ci può raccontare la vostra storia? Sì, nasciamo dieci anni fa, la società quello che fa di mestiere è prendere degli immobili in locazione, ristrutturarli, arredarli ed offrirli per studenti e giovani lavoratori in locazione analogica di medio e lungo termine. Quindi la formula è semplice, ai proprietari quello che offriamo è un conduttore stabile di lungo termine che offre certezza del reddito, una formula senza pensieri che consente una pianificazione finanziaria e con un conduttore che si prende cura del proprio immobile. Dall'altra parte offriamo ai nostri clienti un prodotto a norma di grande qualità e con una gestione di tutte le problematiche connesse chiaramente alla conduzione. Credo che proprio l'eccellenza di dove vivo sia nel mettere insieme questi due fabbisogni e di rendere soddisfatti questi due importanti interlocutori, per cui da un lato le proprietà, sia soggetti istituzionali, banche, assicurazioni, fondi che vogliono mettere a reddito con una logica di lungo termine i propri beni e dall'altro anche i nostri conduttori. Quali progetti avete in serbo per il 2018? La società è attualmente circa 600 immobili in gestione, 2.600 posti letto in 5 città, Milano, Bologna, Roma, Como e Torino. Puntiamo a un consolidamento del progetto, per cui è un'espansione verso i 4.000 posti letto, circa 20 milioni di euro di ricavi dai 15 di quest'anno e puntiamo al 2022 circa 50 milioni di euro di ricavi, 10.000 posti letto. È un importante piano di crescita che l'azienda dal mio punto di osservazione può portare a termine e stiamo anche valutando un'opportunità di internazionalizzazione del progetto.